Sono circa 700 i negozi della moda in provincia di Arezzo interessati ai saldi di fine stagione che si apriranno ufficialmente sabato prossimo per concludersi dopo 60 giorni, martedì 30 agosto. Per fortuna l'arrivo del caldo in questi ultimi giorni ha riportato un po' di buon umore nei negozi, dice il presidente provinciale di Federmodakov Commercio Paolo Mantovani. Arriviamo all'appuntamento con i saldi dopo una primavera da dimenticare e non ci aspettiamo risultati eclatanti perché la propensione all'acquisto delle famiglie è ancora piuttosto moderata, sarà già un successo mantenere lo scontrino medio attorno alle 120 euro a persona come nell'estate scorsa. Non sarà facile dunque recuperare quanto perduto nella stagione normale, guardiamo avanti, spiega ancora Mantovani, credendo nei nostri prodotti, la collezione primavera-estate ha cercato di proporre stili e tendenze per tutti i gusti. Tra le novità c'è il no gender, prima c'era il mix match di capi estivi e invernali, vintage nuovi per comporre un guardaroba valido tutto l'anno, adesso invece una delle tendenze in assoluto più apprezzate, secondo sempre Federmoda, è quella che sfuma un po' i confini tra look femminile e maschile, una sorta di gioco per cui la donna e l'uomo pescano un capo un oggetto l'uno dal guardaroba dell'altro.